Come Invenzio.ai integriamo tecnologie di intelligenza artificiale all'interno di soluzioni di semplice utilizzo. L'app industriale di Quick Inspection permette alle persone di insegnare in modo facile e veloce alle macchine ad eseguire ispezioni visive automatiche. Vediamo un'applicazione sul campo. Come Europass siamo alla continua ricerca della massima qualità del processo produttivo. Grazie alla Smart Camera con l'app industriale di spezione rapida riusciamo a controllare ogni ciclo di stampaggio ed evitare che lo stampo chiuda prima che abbia scalzato completamente tutti i particolari. Ad ogni ciclo il sistema di ispezione verifica la presenza di intrusioni dentro lo stampo fermando la pressa quando necessita e salvaguardando eventuali danni dello stampo. L'applicazione, il software e le varie ricette vengono caricate in maniera semplice e veloce. Possiamo quindi gestire le varie ispezioni in tempi rapidi avendo una grande autonomia sulle varie ricette. L'esecuzione della nostra app sull'hardware Baumer ci permette di garantire l'addestramento completo per un nuovo stampo in pochi secondi. La telecamera si è dimostrata uno strumento ottimo, perfetto per l'ambiente industriale. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Invenzio.ai. Le loro app con l'intelligenza artificiale più evoluta unitamente alla nostra telecamera Baumer VAX rappresentano una soluzione ottimale per il mercato. La soddisfazione più grande è vedere gli operatori insegnare all'app le condizioni da verificare consapevoli della solidità della soluzione. Grazie all'utilizzo appropriato dell'intelligenza artificiale, l'ispezione automatica è semplice e veloce.